Musica Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life Tutta l'informazione di Rieti e provincia su rietilife.com, facebook e instagram Davanti allo stadio Scopigno, oggi intorno alle 17, un autobus ASM per cause da accertare è andato in fiamme Fumo e fuoco si sarebbero liberati dalla parte posteriore del mezzo, immediato all'intervento dei vigili del fuoco Che hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza la zona, strada chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso Tanto spavento per l'autista e i passeggeri, fortunatamente però nessun ferito o intossicato L'intervento del 118 inizialmente allertato non è stato necessario Importante studio di Open Rieti sui dati dell'Università La Sapienza e dell'Università della Tuscia Più di un terzo degli studenti iscritti proviene dall'estero e sceglie Rieti per la disponibilità di corsi di ingegneria in lingua inglese Incentrati sul tema della transizione ecologica e inoltre uno studente su tre originario di Rieti e zone limitrofe Riconoscendo così nel polo universitario reatino un'opportunità significativa per la formazione e la specializzazione a due passi da casa Infine con 11 corsi di laurea su 14 la presenza della Sapienza nel polo universitario di Rieti si è consolidata notevolmente Tutti i dettagli sul free press di domani e sul sito Si stava masturbando nel parcheggio pubblico dentro la sua auto a due passi dalle attività molto frequentate È stata un'elettrice di Rieti Life a raccontare l'episodio avvenuto nella tarda mattinata di oggi martedì Tornando in auto la donna ha notato non distante dalla sua vettura un'altra macchina con all'interno un uomo incappucciato Insospettita la donna si è avvicinata utilizzando come scusa il poter poggiare quanto acquistato sul lato passeggero Mi ha insospettito ha detto Rieti Life il fatto che l'uomo avesse il cappuccio L'uomo si stava palesemente masturbando quando mi ha vista si è affrettato a sistemarsi ed è scappato sulla sua Opel Corsa Mentre io ho preso il telefono per avvisare la polizia Due ambi e un terno tutti sulla ruota di Roma grazie a 8.43.89 nell'estrazione del 16 marzo Ha giocato 7 euro ne ha vinti 55.520 il fortunato reatino che ha giocato probabilmente una schedina abituale con i numeri del cuore alla tabaccheria I Girasoli di Danilo De Santis Non è la prima volta che la tabaccheria di Campoloniano in via Renzo De Felice regala una vincita importante Sul vincitore ovviamente c'è il riserbo ma passerà certamente un'ottima Pasqua A Borgorose nella frazione di Corvaro i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un giovane del posto Proprio gli uomini dell'arma di Borgorose impiegati da giorni in servizi preventivi serali e notturni nella zona Hanno proceduto al controllo di un'auto a bordo due giovani che sottoposti a perquisizione hanno consegnato ai carabinieri circa 14 grammi di hashish in due involucri Uno dei due, un classe 2004 già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato e dovrà rispondere davanti alla Procura della Repubblica Per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Il secondo invece è stato segnalato come assuntore di stupefacenti alla prefettura di Rieti Lo sport, il basket, una pausa disastrosa per le due reatine della pallacanestro La NPC ha fatto causa al suo giocatore migliore, Terence Roderick, per essere partito senza autorizzazione verso gli Stati Uniti Senza più far ritorno in Italia, saltando così la ripresa degli allenamenti In casa, Real Sebastiani ha fatto invece discutere e arrabbiare la società Lala Nazareno Italiano Che al Palatiziano, a Roma, si è presentato con la maglia della Fortitudo Bologna Come vedete nelle immagini da Radio Basket Italia, tratte da Radio Basket Italia Si è presentato con la maglia della Fortitudo Bologna insieme agli ultra bolognesi Di questo ed altro se ne parlerà stasera alle 21 nel salotto di Basket Life condotto da Roberto Pentuzzi Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna domani alle 20.45 Rimanete informati con i siti del nostro gruppo, con il Free Press e con la nostra Rieti Live TV Grazie per averci seguito, buona sera